Ciao a tutti, oggi ho messo il microfono qua sotto vediamo se migliora un attimino, anche se mi ingompro un pochettino le braccia perché ho praticamente il diaframma e il filtro che mi rompe le scatole e il cavetto dall'altra parte che mi rompe i coglioni vedremo se riesco a essere comodo in diretta benissimo come state, aspettiamo un attimino che qualcuno si colleghi comunque poi ci sarà la diretta intanto il mio bellissimo orologio della legola dietro dono dell'amico Michele Biasi segna l'ora, vi piace? vediamo un attimino che si connetta qualcuno oggi parliamo di soldi e social intanto controllo se è tutto a posto alla diretta tempo che si connette qualcuno non ho mai capito se questo è un orario buono o un orario del cazzo dovrei cercare di fare una ok, ditemi sempre se si sente allora in diretta ci siamo bene, come state? ok, allora parliamo di soldi mi raccomando ditemi se si sente l'audio non si vede l'orologio ma si sente l'audio però se me lo dici vuol dire che hai sentito e ho provato a mettere il microfono qua dovrebbe sentirsi un audio migliore vediamo come funziona benissimo, allora soldi e social ok? in Italia si fa sempre fatica a parlare della dire la parola soldi ci hanno un po' inculcato questa cosa grazie Tiziano ci hanno inculcato un po' questa abbiamo appiccicato questa cultura che i soldi sono il male tutti li vogliono fare in Italia ma nessuno ne parla tutti si vergognano dei loro soldi tutti sono invidiosi dei soldi degli altri guai a fare soldi perché si fa i soldi è un male, il male assoluto in Italia sono i soldi ce l'hanno appiccicata addosso questa cosa ce la portiamo dietro e quindi è un problema, è un problema perché se parli di soldi tutti avete mai notato, non so se avete mai fatto un lavoro alla dipendente o avete parlato con un dipendente che nessuno dice quanto guadagna all'altro è proprio una vergogna totale uno perché sembra esatto, come il sesso, un tabù uno perché sembra che se tu vuoi sapere i cazzi degli altri i miei soldi me li tengo per me il mio giardino c'è tutto questo ragionamento all'italiano i soldi non esistono partiamo da questo problema i soldi sono una cosa mentale che ci siamo costruiti noi umani non è una cosa che esiste è il metro di misurazione del tuo lavoro sai lavorare in un certo modo e i soldi sono la dimostrazione tenendo sempre tutto nascosto e vergognandosi dei soldi automaticamente ne facciamo diventare una malattia quindi parlare di soldi è un bene se li vuoi fare quindi slacciate la lingua perché quando si parla di soldi è soltanto un bene perché più ne parlate più ne fatti più tenete nascoste le informazioni è tutto mio segreto arriva la finanza il fisco è ovvio che in Italia ci sono dei problemi e non lo metto in dubbio perché in Italia ci sono dei problemi a livello proprio finanziario che le fiamme gialle non perdonano ma non è con la mentalità sbagliata dei soldi che si fanno in soldi i soldi sono un metro di misura per vedere veramente cosa hai fatto col tuo lavoro in America è molto facile la prima cosa che ti dicono è ciao come ti chiami e quanto guadagni è molto normale parlare di questo sei un sette figure sei un sette figure che indica quanti numeri compongono il tuo guadagno anno e via dicendo quindi vorrei un po' sdoganare questa cosa del denaro ok i soldi cioè siamo sui social tutti quanti per fare soldi cioè non nascodiamoci dietro un dito ok non siamo qui per far finta che i soldi non ci interessino ma poi in realtà vogliamo fare soldi lo stesso ok siamo qua per fare soldi quindi il marketing è lo strumento che ti serve per fare grana cioè l'abbiamo semplificato ok tutto quello che andremo a fare in questo percorso insieme se mi ascoltate se fate quello che vi dico se comprate i miei corsi è sempre chiaro ok il marketing semplice vero applicabile per fare grana queste sono le cose non voglio andare oltre non voglio insegnare cazzate ok non esiste il rendita automatica non esiste non lavorare quattro ore al giorno non esiste niente esiste farsi il culo con un sistema che ti porta a fare grana ok questo è that it come dice qualcuno bene intanto ciao a chi si è connesso non vedo benissimo però c'è Francesca Tiziano ok ok devo capire qual è l'orario migliore sto facendo degli esperimenti in realtà ho provato alle due e mezza all'uno e mezza oggi è mezzogiorno e mezza devo vedere qual è il gap migliore di tempo voi che dite vabbè e quindi alla mia spalla vedete che a proposito di soldi ci sono cifre 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 bisogna cercare di creare il sistema utilizzare e sfruttare i social per fare soldi quindi il nostro percorso che tanti chiamano funnel a me non piace la parola funnel però vabbè prendiamola per buona funnel serve per appunto arrivare a un certo punto che il cliente il potenziale cliente fa un'azione nei tuoi confronti questa azione deve prolungarsi fino a darti del grano ok non c'è non ci sono tante altre opzioni ragazzi cioè il cliente deve darti i soldi ok quello che voi fate con me a un certo punto ascoltate informazioni gratuite a un certo punto strisciate la carta quello è che bisogna fare quello che devono fare anche i vostri clienti con voi perché effettivamente queste informazioni che voi pagate comprate e anche quelle gratuite che vi prendete servono a questo cioè voglio proprio sdoganarla sta cosa ragazzi soldi ok non siamo qua a pettinare le bambole non siamo qua a vedere la vernice che si asciuga siamo qui per cercare di capire come vivere meglio fare più soldi lavorare meglio magari lavorare un po' meno metti che lavori 23 ore al giorno ok cerchiamo di fare trovare il sistema va bene ciao Laura grazie a te forse alle 14 dopo pranzo prima di ricominciare a lavorare eh sì ieri ho provato a fare alla 14 però non so forse devo annunciarle meglio vediamo devo un po' organizzarmi meglio con queste dirette intanto sono contento che vi piacciono basta che non vi motivi non sapete che io odio motivatori eh io sono contro la motivazione ok benissimo quindi allora stiamo parlando di soldi stiamo parlando di social i social oggi sono il mezzo più economico e più potente per raggiungere persone persone in target ovviamente queste persone in target che raggiungete a prezzi ridicoli sono ridicoli ragazzi perché se vi faccio vedere quanto mi costa eh arrivare a un dentista parlando di dentista che è il mio altro business piuttosto che arrivare eh a uno che è interessato di trading piuttosto che arrivare a una persona che è interessata di eh persuasione piuttosto che arrivare a una persona che è interessata a sport meditazione insomma tutte le cose che ho fatto cioè è ridicolo è ridicolo stiamo parlando di spiccioli eh vi posso dire che è prendere i contatti cioè siamo sui 20 euro a vendita cioè 20 euro di acquisizione del cliente cioè proprio che hai venduto 20-30 euro sono spiccioli eh considera quanto costa eh fare il lavoro offline con un venditore che ci deve mettere la benzina ci deve mettere il tempo deve muoversi caselli autostrade insomma le brochure i cazzi i mazzi non c'è non arrivi a 30-40 euro a cliente preso arrivi a 50 euro forse forse a costo visita cioè stiamo parlando di robe amicidiali quindi facebook oggi ti consente di raggiungere una fetta gigante di pubblico a un prezzo ridicolo quindi se vuoi fare soldi oggi devi andare sui social chi ha capito l'equazione li fa eh ma il mio pubblico non è sui social ok se vendi le cose ai preti anche lì ti assicuro che puoi lavorare con i social perché ne abbiamo una dimostrazione c'è sempre c'è sempre c'è sempre il modo di sfruttarli a proprio vantaggio perché a volte non sono le persone dirette che tu devi andare a cercare ma le persone collegate ci siamo poi grazie a varie complicazioni che arrivano in un secondo step possiamo fare retargeting eccetera cos'è il retargeting semplicemente sul tuo sito web puoi mettere una cimice che si chiama pixel che ti permette poi di inseguire le persone che hanno visitato il sito web su facebook è molto semplice non c'è nulla di complicato va bene non avete mai sentito parla di retargeting poi ci dovrò fare un webinar su questo perché è interessante ma allo stesso tempo è il gradino superiore a quello che io voglio fare adesso ovvero adesso io voglio parlare di marketing a livello fondamentale cioè quello che serve prima la base quella fondamenta l'essenziale ok dei social del marketing sul che parte dai social ovviamente per poi scalare ok andare sul livello di difficoltà mi sono accorto che molte persone parlano di facebook parlano di fanno corso fanno là e non si rendono conto che le cose vanno fatte prima bisogna essere devono essere impostate bene le persone devono capire in maniera semplice come fare il secondo passo perché il primo è ok va bene facciamo cos'hai da insegnarmi questo questo è il primo passo poi da lì in poi c'è un livello di difficoltà ma se non abbiamo impostato bene le fondamenta sotto poi dopo non si va avanti abbiamo solo confusione in testa e non si capisce un cazzo quindi la cosa migliore da fare è impostare tutto bene avete chi ha visto di voi che ha potuto spararsi il webinar le ads non servono un razzo ha capito io in quel webinar ho detto delle cose che non ha mai detto nessuno non riuscirete mai a smentire questa cosa mai ho detto delle cose che non ha mai detto nessuno di una semplicità estrema da fare subito che portano ai risultati è inutile mettersi lì a capire come posso ottimizzare la campagna se vado a modificare il posizionamento poi passo su a droll cazzate cominciamo a fare le cose bene all'inizio le cose bene all'inizio significa impostare la tua comunicazione il tuo marketing educativo il tuo marketing comunicativo sui social nella maniera corretta ok per fare questo bisogna fare le cose step by step semplici quindi impostare i propri contenuti il proprio format impostare il tuo budget impostare la tua idea il tuo prodotto il tuo servizio impostare il tuo target ci sono dei modi per farlo compratevi il corso vi ho messo anche il link al corso gratuito smettila di fare le ads che vi porta poi ad accattarvi il mio corso se non ve lo siete ancora comprato siete degli sfigati ok compratevi sto corso sto diventando come vanna marchi state notando adesso mi incazzo no scherzo 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 è chiaro che ci tengo cioè insomma questo corso adesso in promo è a 59 euro ragazzi arrivo anche a casa cioè non so più cosa fare io per farvi entrare ovvio che poi le cifre diventano quelle lo step successivo però già con 59 euro ragazzi vi arriva a casa il dvd vi arriva a casa il manuale vi arriva a casa il box con la mia lettera firmata che un giorno varrà milioni insomma ragazzi c'è anche Zacchetto ciao Zac com'è si è svegliato adesso non dire che lavori tutta la mattina perché non ci crede nessuno oh ieri era il compleanno di Francesca Gatto non si dica che io non faccio gli auguri 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 Francesca Gatto detta anche Frenchy Cats ok vediamo un po' cosa dicono qui Tiziano dice è vero esatto si si è vero le cose sono quelle insomma quando imposti il tuo business è ovvio che devi avere la visione ok delle cose più complicate ma devi partire dalle cose semplici cioè devi cominciare andare a vendere è inutile che imposti un super marketing della madonna che non funziona devi impostare cioè devi andare a vendere cioè vai vai a spaccare le porte a calci e ficca i tuoi prodotti in mano le persone con la pistola li obbighi a pagare all'inizio è così è così è così ma mano poi che hai soldi perché ragazzi sempre una questione di soldi quando hai soldi investi in marketing però piano piano migliori gente accattatevi il pacchettino ecco se lo dice anche frenzy cazzo vabbè meglio tardi che mai per gli auguri si che dice zacchedu sono al telefono con i cinesi dalle 8 ma che cazzo vi dite ecco perché sei al telefono con i cinesi che cazzo tanto tu non capisci un cazzo di cinese quelli non capiscono un cazzo italiano ecco perché sei stato quattro ore al telefono auguroni fra bene quindi ritorniamo sul punto oggi stiamo parlando di soldi e stiamo parlando di social ok queste cose vanno a pari passo in Italia purtroppo si è ancora un po' il tabù del denaro non si vuole parlare mai di soldi c'è sempre la vergogna di guadagnare la vergogna della ricchezza i ricchi fanno schifo i ricchi sono orati brutto cattivo ricco che ci rubila sia uno schiavista e via comunismo braccio alzato e Stalin tatuato sulla schiena ok cechevara non funziona l'abbiamo capito non puoi pensare di fare il cede alla situazione e poi sei mantenuto la mamma e papà ok il grano lo fai se hai un rapporto col denaro giusto quindi invece di schiantartelo nel naso di schiantartelo nel braccio come fanno i tossici li prendi li investi nel modo giusto sui social fai le cose fatte per bene e vedrai che poi la macchina si mette in moto ci vuole tempo ovviamente non è una cosa che viene fatta subito ci vuole tanto lavoro tanta comunicazione ok cosa vorresti dire come lo dici tu comunista ti banno subito ce l'ho qua il tasto ban fai attenzione a quello che dici qua è vietato è vietato il comunismo quando si parla di vendita social business imprenditoria va bene ok se no vai a prenderti i like di cittadinanza chiedi al bonzac se te li da ok quindi il rapporto soldi è importante bisogna anche capire una cosa che sembrerà scontata ma tanti non riescono a capire facebook non è gratis ok il web non è gratis e non intendo dire che devi pagare la connessione internet devo dire che qualsiasi cosa tu faccia sui social per avere un ritorno business devi pagarla ok se non paghi non avrai nulla facebook è la più grossa agenzia pubblicitaria del mondo ok vatti a vedere cosa ha fatto Q4 2017 e capirei cosa intendo basta che scrivi Q di quaderno 4 facebook 2017 e guarda che numero esce mo te rispondo come a Mario brega se ti banno io sono vietati qua zacchè du digli un po' che che non funziona il c'è oramai non funziona vai a mangiare i bambini francesca gatto non c'è spazio per te qua e quindi togliamoci dalla testa il fatto che facebook sia gratuito i social siano gratis bisogna pensare che sia un mezzo pubblicitario che noi dobbiamo sfruttare chi lavora col profilo e basta cercando di farsi amici le persone per poi vendere i prodotti non funziona ragazzi è ovvio sì che anche sul tuo profilo personale puoi puoi mettere quello che vai a mettere sulla tua pagina business questo è normale ok però il lavoro impostato così è sbagliato bisogna utilizzare la pagina business bisogna investire un minimo se non cioè se tu non metti 10 euro al giorno nelle tue sponsorizzate che cazzo ma non stare neanche a ascoltarmi esci dalla live via non ti voglio qua ok devi mettere almeno quei soldi mettitelo in testa se non hai 300 euro da spendere ragazzi non è inutile neanche che stai a ascoltare me e qualsiasi altra persona che trovi non c'è ma proprio stiamo parlando di niente è il minimo ragazzi smettete di fumare smettete di bere caffè smettete di andare a puttana e tenetevi quei soldi se non fate nessuna delle tre ragazzi non so che dirvi lavorate di più andate a consegnare le pizze non lo so però la verità è quella dovete avere almeno quel budget ma minimo ma proprio per iniziare a parlare stiamo parlando di rasoterra ok non sto neanche parlando del primo scalino quando e poi ci vorrò fare un corso su sta cosa qua quando vorrai lavorare online come si deve quindi magari fare vendere video prodotti qualcosa cose che faccio io nello specifico ci vorrei fare un corso ragazzi gli investimenti lì sono le stelle perché non riesci ma non riesci neanche cioè tu puoi avere il prodotto più figo del mondo dire le cose più giuste del mondo essere la persona più figa del mondo che parla se non ci metti grano non fai niente nulla cioè io penso che tipo Montemagno no? che ha un sistema di comunicazione molto forte cioè lui comunica tantissimo ma io penso a spanne a spanne che lui ci abbia buttato ma guarda un 3-400 mila euro nella sua comunicazione e non credo e non credo non credo che lui le abbia recuperate ancora con tutto il lavoro che sta facendo probabilmente lui ha fatto questo tipo di ragionamento investo sul lungo termine infatti lui ha fatto così si è creato un pubblico non spendente cioè solo che lo segue e ha creato un engagement alla Madonna questo ha fatto la storia è questa potete cioè non ci sono segreti se tu hai quattro tool del cazzo tipo fanpage karma capisci tutto cioè capisci quanto investe in pubblicità e capisci che cosa ha fatto storicamente questo è quindi cioè se tutti che parlate di Montemagno Montemagno qua Montemagno là lo seguite la sua strategia è stata di buttare un pacco di grana e non vederne niente dietro e non vi sto dicendo di fare questo per dire quello che insegno io è cercare di monetizzare tanto e subito tanto e subito ok a tanti non piace a tanti piace più la tecnica del lungo periodo invece sono per ok lavoriamo sul lungo periodo ma intanto cominciamo a fare grana va buona ciao Roberta come stai oh ragazzi io mi diverto troppo queste dirette dovrei dovrei lavorarci proprio vorrei vedere più gente insomma mi piace sono quei venti minuti magari che si possono dedicare tra l'altro sto programmino è veramente bello guardate un po' posso mettere anche le cornicette c'ho la pastua happy ester sono tema tutto tema pasquale floreale non sono credibile io coi fiori va bene quindi per riassumere oggi abbiamo parlato di soldi di social ok soldi e social ecco qua sono due cose che vanno a pari passo bene grazie vedo che anche tu stai bene sì sono incasinatissimo non non so non è meglio che non ci penso non mi vedi diventare blu sono in uno dei periodi più incasinati del della mia vita perché sto facendo un botto di roba ciao muffa orca miseria manco mi saluti e come si chiama come si chiama il programmino vai a fare la muffa va si chiama be live ok be live ed è un programma comodo mi piace potete provarlo trial voglio vedere penso che nel giro di un mese lo useranno tutti però ragazzi lo sapete che io sono il pioniere delle cause perse nel senso che io faccio le cose per primo le altre me le copiano loro fanno i soldi io non faccio un cazzo la prossima volta la diretta la fa e le 14 per favore proveremo proveremo vorrei provare anche di sera cioè mi è più comodo questo orario perché in sostanza stacco da da quello che stavo facendo e mi prendo diciamo questa mezz'oretta tra poco manderò anche la mail della giornata e quindi e danno ciao 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 mister muffa come vanno gli affari con la muffa pensa che ogni volta che passo nel supermercato quando vedo ti penso non so sei contento ti penso perché sta cosa della muffa dai lei l'hai studiata bene o l'hai copiata bene come dice qualcuno scherzo quindi ragazzi prendete se volete fare soldi dovete avere un altro rapporto con i soldi essere più slacciati e soprattutto metterli nei social i social sono una macchina che vi farà fare soldi se li usate nel modo esatto perché c'è target c'è tutto quello che serve c'è la possibilità di fare c'è la possibilità di fare format di comunicare e mettersi lì cioè ragazzi con quattro soldi tu puoi metterti davanti alla telecamera come sto facendo adesso e avere un format che le persone seguono non è una roba che si può fare in tutti i luoghi del mondo quindi in realtà facebook i social insomma sono sono il top per arrivare al target quindi se vuoi fare soldi devi utilizzare i social se utilizzi i social come si deve fare i soldi bisogna avere un rapporto col denaro diverso ok il denaro serve per fare soldi bisogna metterne dentro quando si dice soldo porta soldo sì solo se sei se sei farlo perché se ti schianti tutto nel naso e sbocci in discoteca cartiz a pagarlo cento volte quello che costa sì per carità ti potrei fare la storia su instagram che tutti ti vedono ma non ti porterà quello non ti porta soldi ok quello che ti porta soldi è pensare ciao tiziano ciao 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 cercare un target che sia interessato un prodotto che sia pronto per comprare un prodotto servizio quello è importante se non c'è mercato ragazzi non è che possiamo inventarci la stufa nel deserto voglio dire deve esserci mercato quindi se c'è mercato c'è pubblico e se hai se risolvi un problema se hai una grande idea che risolvi un problema le persone ci sono ok qual è la mia big idea qualcuno me l'ha chiesto Marco qual è la tua siccome che ci sono già persone che parlano di marketing online e tu non sei grosso come loro sì è vero ci sono quali sono i miei angoli di differenziazione il primo in assoluto è che io dico cose semplici vere e applicabili ok semplici è vero veloce applicabile c'è le cose da fare subito non sto lì a a far fischiare a far fischiare il vento facciamo le cose da fare adesso questo è il mio angolo di attacco la seconda cosa è che guardiamo il curriculum io ho 37 anni devo ancora farli e nel 1997 mi sedevo a schivania la prima volta a scrivere a fare pubblicità sono vent'anni che lo faccio ok forse qualcosa in vent'anni ho visto le mani nella merda le ho messe quindi in realtà one to one tu puoi essere tecnico quanto vuoi perché sai tutti i nomi dei marketer la tecnica l'hai fatto? hai portato risultati? hai formato delle persone che hanno portato risultati? ok questo è il mio angolo di attacco poi per carità non mi vedrete girare il Lamborghini come Tai Lopez però insomma neanche come NJ DeMarco che c'è la Lambo io non ce l'ho non ce neanche l'auto l'affitto quindi ok va bene ragazzi direi che per oggi è tutto ci siamo fatti la nostra bella mezz'ora di chiacchierata devo cercare di portare questi live un po' più se interessano a portare a un livello superiore intanto vi ricordo che potete acquistare le ads non servono a un razzo è in promo da 79 a 59 ok dovete comprarvelo dovete comprarvelo perché è la base di quello che vi serve per creare un format sui social capire come funzionano i social vi faccio gli schemini va accattate quello e poi per farlo basta che andate sul mio sito ho messo anche il link qua nei commenti comunque lo trovate lì vi fate il corso gratuito vi arriveranno le mail del corso gratuito l'ultima mail all'accesso per comprare le ads non servono razzo in promo e poi sposto la testa qui sopra quella bella mille è riservata a farvi il corso strategia social per devo ancora trovare il nome giusto però in realtà sarà il prossimo corso che metterò in vendita e si tratterà di di un corso completo one to one con me ok va bene ragazzi vi saluto e ci vediamo magari domani domani cos'è sabato vediamo sì dai tanto a me non cambia un cazzo sempre sempre qua chiuso nel mio tugurio a lavorare con i miei amici là sopra li vedete i miei amici là sopra c'è Doraemon c'è la merda c'è Dottor Dinamite c'è anche Freddy Mercury insomma ne abbiamo un po' va bene ciao ragazzi e buon lavoro e mi raccomando soldi e social ciao ciao